e ma dove ti manda figa dove si dove non c'è più niente praticamente se si chiude ora non ci credo all'ultimo shop con tutti fuori voli la cosa posso fare volo non posso fare un cazzo grandiale però uccidilo grande cazzo ti merda di qua non ci avevano soldi